La storia della danza, la preistoria. Nelle buie caverne della preistoria, in particolare modo dal periodo paleolitico, l'uomo ha iniziato a disegnare il suo corpo, gli animali che cacciava, le sue azioni quotidiane, ha iniziato a rappresentare rappresentandosi. Questi disegni si chiamano pitture rupestri o graffiti, se ne trovano molti in Italia, in Francia, in Spagna, ma anche in altre parti del mondo. I più antichi risalenti all'uomo di Neandertal, 64.000 anni fa, sono stati ritrovati in Spagna. In questi disegni l'uomo della preistoria rappresenta scene di caccia, vita rurale e riti propiziatori. Le pitture evidenziano l'intenzione del movimento. Per i rituari il corpo è rappresentato con le braccia e le mani alzate, per connettersi con l'alto, con il cielo. Il movimento è iniziato così prima della parola. La danza delle origini era una celebrazione propiziatoria.